ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi farò un video spacchettamento avon di campagna 7 allora questo pacco è un po riservato a me e un po per le mie clienti quindi vi andrò a specificare quali sono i miei prodotti e quali delle clienti allora per prima cosa questo che è stato ordinato dalla cliente che è un burrotalco abbiamo il deodorante sempre femminile mentre questa è per me è una borsa a tracollo questi pezzi poi ve li mostrerò anche in video diciamo riservati proprio ecco alla borsa e le altre cose che vi farò vedere così ve li posso anche diciamo mostrare senza la busta qui abbiamo il telo mare che ha l'opportunità di un cuscino confiabile all'interno quindi da poter stare veramente molto comodi quando ci troviamo sulla sedia sdraio poi l'ultimo pezzo che ho preso per me è questa borsa a zainetto non l'ho mai provato una borsa così però questa volta ho deciso di provare anche questo genere di borsa poi abbiamo due mascara sono questi qua che c'era l'offerta sul catalogo una matita poi abbiamo questo vi faccio vedere anche il colore è un rossetto liquido mi sono arrivati anche i cataloghi meno male eccoli qua poi vediamo se c'è qualche cartoncino no è finito qui quindi questo è l'ordine che è stato fatto tra me e le clienti già devo fare un altro ordine quindi prossimamente vi farò vedere un altro spacchettamento sempre di campagna 7 poi vi farò anche un video dove vi vado a mostrare questo bellissimo catalogo campagna 8 spero che questi prodotti vi siano piaciuti ragazzi lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video con tutti i vostri amici noi come sempre ci rivediamo sempre con altri video con tante novità abon